bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti in un nuovo video anzi benvenuti in un nuovo medium short video quindi come avete visto oggi vi faccio vedere una canna della daiva la silver creek quindi canna corta video corto a parte di scherzi voglio fare questo video in un sol soffio perché è molto importante far passare in questo video soprattutto le mie sensazioni il sottotitolo l'avete visto native come una volta la pesca native racchiude effettivamente quella che è la pesca in torrente naturale a pesci assolutamente naturali con tutte quelle che sono le componentistiche che riguardano questa tecnica quindi non è soltanto è assolutamente lontano il combattimento con il pesce in questo caso ma soprattutto la gestione dell'esca quindi abbiamo bisogno di una canna che ha delle caratteristiche particolari questa silver creek mi è piaciuta perché proprio in un momento particolare di quest'anno mi è riaffiorata la volontà di andare a pescare in qualche torrente di ripercorrere qualche vecchia pozza che facevo molto spesso molto tempo fa e combinazione l'amico jack di daiva mi ha dato la possibilità di avere in dotazione questa silver creek è la 48 la più corto mentre 40 che ho trovato molto maneggevole molto reattiva più reattiva delle canne che utilizzavo io proprio per una questione di materiale è molto importante dicevo in questa tecnica avere questo questo prolungamento del braccio proprio in maniera naturale deve essere una canna che ti deve entrare dentro subito devi quando fai un lancio essere assolutamente molto molto preciso e non devi neanche stare troppo a pensare a dove devi lanciare deve essere un continuo deve essere e devo dire che la sensazione di questa silver creek me l'ha dato atto mi piace molto anche il fatto che sia una canna in tre elementi quindi una canna in tre pezzi molto importante anche perché frequentando dei piccoli torrenti spesso gli spostamenti sono piuttosto frequenti sia in auto da un torrente all'altro sia in diversi passaggi piuttosto complicati dove consiglio assolutamente alla canna di smontarle di riporla magari nello zaino o nel gilet da pesca andiamo quindi a vedere un secondo da vicino questa silver creek vi ho portato qua chiaramente tutte quattro tutte tre le misure disponibili al momento esiste anche una canna silver creek da bite finesse quindi dal mulinello rotante non c'è ancora arrivata quindi non ve la posso fare vedere vi faccio vedere però la 48 ul che è questa che è quella che ho utilizzato io la 63 che un metro e 90 circa è la più lunga della gamma e la 53 che trovo essere quella dignitosamente a metà che è un metro e 60 chiaramente tutte queste canne hanno una grammatura che va da un grammo e mezzo a 7 tranne la più lunga che è un 9 grammi ma questa differenza dei due grammi sparisce svanisce in questi 30 centimetri in più di lunghezza quindi la custodia è una monotasca e qua poi vi dirò qualcosa alla fine le canne quindi sono tre e andiamo subito a farvi vedere quella che è la parte estetica una canna assolutamente minuscola sottilissima silver creek la scritta 53 ul 3 3 sta per le sezioni un manico che è veramente carino non vi so dare esattamente so che me lo chiederete il materiale di questa parte della placca però devo dire una placca che scorre molto bene come vedete due ghiere come una volta quindi due ghiere molto lineari senza la bombatura del gambo del mulinello accoglie oggi qualsiasi tipo di mulinello anche se la canna giusta il mulinello giusto per questa canna può andare da un 1000 a un 2005 direi massimo e questo manico molto 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 corto impugnando la canna quasi che il manico sparisce questo è veramente importante per dare poi vi farò vedere anche dopo il movimento a quelle che sono i lanci che possiamo fare in un torrente diciamo nativi quindi in questa pesca nativi come si dice oggi in un torrente selvatico questo è il primo elemento un innesto fatto molto bene carbonio x 45 quindi un carbonio di tutto rispetto andiamo a togliere il secondo elemento dove il primo anello è molto alto rispetto a quello che è la struttura della canna è giusto che sia così perché utilizziamo un mulinello 2005 che quindi è molto vicino al primo anello e abbiamo bisogno di questa prima fuoriuscita poi abbiamo una forzatura qua su quest'anello che lo va ad allineare quindi molto ben fatto questo montaggio molto tecnico abbiamo poi chiaramente il bugiardino dove vengono riportate tutte le tre misure compresa quella da byte casting che vi ricordo essere un metro e trentasette anche la più corta sempre 7 grammi poi quella quando ci arriverà magari faremo uno short per farvi vedere un pochino meglio poi abbiamo la cima assolutamente sensibile ma si può dire che questa canna non ha una spiccata azione di punta anzi è una canna a modi trout area con più schiena quindi assolutamente una canna da trout area per questo tipo di pesca non si potrebbe andare ad utilizzare quindi queste sono le caratteristiche estetiche che vi faccio vedere ritorniamo in questa immagine perché voglio farvi vedere proprio questo il discorso di avere una canna in mano così maneggevole è proprio perché spesso e volentieri in torrente molto difficilmente facciamo il lancio in questo modo anche se devo dire che la canna spinge molto avendo avuto qualche spazio libero l'ho provata spinge molto molto bene anche in grammature piccole utilizzavamo utilizzavo in particolar modo sempre hard bait intorno ai 2 grammi e mezzo 3 grammi fino ad arrivare a un 5 6 grammi massimo spinge quindi molto bene anche in distanza ma soprattutto è una canna da da mono a da mono mano quindi io posso aprire chiudere lanciare sempre dritto in questa posizione posso lanciare in questa posizione guardate vedete come passa agevolmente sotto il polso posso assolutamente fare una fiondatina in questo in questo senso quindi la canna deve essere più importante per il suo per la sua maneggevolezza per il suo movimento che per quello che invece riguarda il combattimento del pesce e la mangiata del pesce che poi rimane appunto in questo tipo di pesca e nel selvatico abbastanza semplice se vogliamo dirla così è molto più difficile fare un lancio con precisione mentre l'esca dove voglio io e soprattutto non sbagliare quel lancio perché altrimenti rischiamo di bruciarci in alcuni luoghi quella pozza quindi quella pozza può essere anche piena di pesce ma non otteniamo più nessun risultato quindi questa canna è una canna che trovo molto 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 carina mi è piaciuta moltissimo l'azione pur essendo una canna molto corta e quindi sembra che ci sia poco da dire qua ci sarebbe da disquisire su un sacco di elementi mi piace quindi la canna mi piace quindi moltissimo quello che è il tre pezzi di questa canna mi piacciono molto gli innesti che vanno praticamente a svanire quando la canna piega ho potuto chiaramente fare un sacco di lanci e provare un sacco di esche e devo dire che il feeling è immediato su questo oggetto le cose che mi piacciono forse meno mi piace forse meno come vi dicevo questa custodia una custodia un po troppo povera passatemi il termine non ha le tasche divise per i vari elementi e forse proprio perché questa è una canna in tre pezzi avrei dotato questa silver creek assolutamente di un piccolo tubicino rigido da poter mettere magari nello zainetto spuntando fuori togliendo il tappo per poterla mettere e levare senza doverla per forza mettere dentro la custodia gli elementi un po si toccano con questa custodia quindi rispetto a quello che costa io avrei messo una custodia un po più rigidina un tubicino costa poco quindi eventualmente eventualmente facciamo dai va un upgrade a questa cosa è un consiglio che io do e arriviamo poi al prezzo il prezzo dico purtroppo ma capisco che tecnicamente ci potrebbe anche stare dico che purtroppo è un po elevato in questo caso per questo oggetto perché è un oggetto che nel mercato sembra un oggetto povero non lo è di fatto per chi è esperto ma sembra un oggetto povero e di conseguenza una canna che entrando e uscendo scusate al pubblico intorno ai 140 150 euro potrebbe fare storgere un po il naso a qualcuno se però qualcuno vuole un oggetto molto reattivo un oggetto molto molto familiare al braccio al movimento dopo le primi tre quattro lanci ti dimentichi di averle in mano e quindi fai tutto veramente nel modo preciso giusto mi piace il sughero devo dire che non è poi un prezzo così fuori fuori mercato comunque questo sta a voi e siete voi che dovete valutare secondo il mio punto di vista questa canna è una canna che prende voto 8 8 e mezzo non c'è niente da dire di più la custodia ha fatto il suo dovere ha fatto il suo ha dato il suo il suo inferiore voto ha fatto sì che la recensione fosse inferiore di voto non ve lo nascondo avrebbe preso sicuramente un punto in più il prezzo forse ha fatto sì che un altro punto un altro mezzo punto ci poteva stare forse poteva costare qualcosina di meno però vi devo dire che l'azione mi piace l'estetica mi piace è chiaro che mi piace e ma andrebbe valutata soltanto per l'estetica questa silver click molto molto carina molto bella quindi la trovate chiaramente disponibile sul nostro sito di internet vi lascio il link qua sotto in descrizione se avete domande qualsiasi cosa scrivetemelo qua nei commenti ci vediamo alla prossima recensione a questo punto io e la silver click perché questo è un medium short video qui devo fare veloce vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca è con voi ciao